Ciao a tutti sono Biagio l'esploratore a caccia di impronte nel bosco è arrivato l'autunno gli alberi perdono le foglie nei boschi c'è un morbido tappeto di foglie colorate fa un po più freddo e io preci il raffreddore pazienza ecco lo scogliattolo indaffarato a fare provviste per l'inverno se ne andrai l'età ma ha bisogno di fare qualche sbondino ciao ciao scogliattolo ci rivediamo in primavera ci è venuta a trovare anche la ghiandaglia dai bellissimi colori sapete che anche lei fa provviste di ghiande ah eccovi non potevate mica mancare voi due buona passeggiata amici istrici un cinghiale solitario che strano in genere siete sempre in tanti sarà un esploratore è tornata la faina ha una bellissima lunga cuore sapete che è il ghiotto di miele non le piacciono solo le uova di gallina la volpe sta cercando qualcosa da mangiare eccola addirittura ha catturato una preda guardate com'è curiosa sembra essersi a corda della fototrata ciao capriolo che vogliamo fare siamo un po' addormentati mangiamo qualche fogliolina prima che cadano tutte buongiorno capriolo stamattina andiamo in corso la farina in questo periodo è molto attiva sapete è un mustellide ma non va il letargo ecco il tasso è un po' che non ti si incontrava un bisognino una grattatina e via ciao a tutti i maletti di bocco al prossimo video iscrivetevi al mio canale youtube ciao